La Capsong consiste nel cantare a cappella tenendo il ritmo con le mani, tamburellando queste ultime su una superficie piana, su un bicchiere o una tazza. Il fenomeno virale esplode sul web. Tutto comincia da un gioco che incontra una canzone, un film e poi il tam-tam. Dalle reti, ai cortili della scuola, alle mense scolastiche, è una cosa che coinvolge molto i ragazzi ed è educativa nell'ampito della musica perché è un insieme di pulsazioni, ritmo e velocità. È nata quando è uscito il film Pitch Perfect, dove in una scena la protagonista improvvisa una cover di Folk nel 1937, Miss Me When I'm Gone. Il fenomeno virale esplode sul web. Il fenomeno virale esplode sul re Il fenomeno virale esplode sul web. Grazie. Grazie.